Proprio quando mi dissero dello slogan Aretino Forte, proprio subito disse la scelta azzeccata. Lo sar parte perché devi sfruttare, mi viene questa parola che è sbagliata, devi ripartire dall'entusiasmo dei play-off, che è stata una parentesi eccezionale, tutta quella gente allo stadio, per ripartire sempre più forte e far sì che tutto quell'entusiasmo, anche a settembre, quando ricomincerà il campionato, ci sarà per tutta la città. Sicuramente sono abbastanza convinto che saranno più dell'anno scorso, stiamo rifacendo anche qualcosa allo stadio, quindi gli impegni sono sempre tanti, però noi cerchiamo sempre di fare tutto con passione, perché poi alla fine è la cosa più importante, quando mancherà quella sarà un problema, ma in tutte le cose della vita e non solo nel calcio. Facciamo lavorare serenamente Pieroni e Testini, che da quel punto di vista ci hanno portato stanno fior fiori i giocatori. Dopo aver raggiunto questo obiettivo, che era sicuramente nelle nostre corde, però bisognava raggiungerlo, l'abbiamo raggiunto. Adesso dobbiamo pensare a tutto il discorso della campagna acquisti, dell'allenatore, però ripeto, ad oggi l'allenatore è dal canto, ha fatto le dichiarazioni chiaramente molto risolutive, dove lui vuole andare via, adesso ci incontreremo e speriamo per entrambi le parti di raggiungere l'accordo, ma sono abbastanza sereno in questo. In questi dieci giorni non è che non ci siamo incontrati, però la campagna abbonamenti doveva essere presentata il 17 giugno, io ho detto di presentarla il 24 perché prima ci doveva essere l'iscrizione, non potevi presentare la campagna abbonamenti senza un'iscrizione, adesso l'iscrizione c'è e adesso possiamo pensare serenamente alle altre cose. Dirò che entrando al di fuori nel calcio le cose sono così, però la cosa più importante per me è rimanere nei rapporti umani bene, ma penso che qua Alessandro non ci siano di questi problemi.